E' importante, è essenziale che si costituisca una elite, la quale in una raccolta intensità definisca, secondo un rigore intellettuale e un'assoluta intransigenza, l'idea in funzione nella quale si deve essere uniti, ed affermi questa idea soprattutto nella forma dell'uomo nuovo, dell'uomo dritto fra le rovine. Se sarà andato ad andare oltre a questo periodo di crisi e di ordine vacillante e illusorio, solo a quest'uomo spetterà il futuro, ma quando anche il destino che in modo moderno si è creato e che ora sta travolgendo non dovesse essere contenuto, presto a dare premesse le posizioni interne saranno mantenute. in qualsiasi evidenza ciò che potrà essere fatto sarà fatto e abbatterremo a quella patria che da nessun nemico potrà mai essere né occupata né distrutta. ci hanno chiuso le porte del cielo raccontandoci false verità hanno nascosto le chiavi per per aprirci a più vaste realtà. Proprio l'anno del buio in questa notte trovo fantasmi di ogni età è per questo che cerco il sole è per questo che chiedo verità. se il mattino il cuore è puro perché si continua a dormire, se un bagnone inizia a bere, perché rimani fermo qua, uomo in piedi, uomo in piedi. rumore il bacsecato rumore listen tune 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 journal within Grazie a tutti Il canto del cuore spinge, un altro uomo si resterà Ma se teniamo lui, lui in alto si arriverà Cultivando il meglio di sé, una speranza ancora c'è Per sottrarci da questo gioco che di certo il nostro non è Se adesso ti senti sicuro, tu puoi vincere le care Se un maglione inizi a scorgere, perché rimani fermo qua Uomo in piedi Uomo in piedi Giorno, giorno, sole prendimi con te Luce, luce, forza attraversami Giorno, giorno, sole prendimi con te Giorno, giorno, sole prendimi con te Giorno, giorno, sole prendimi con te